Amici ascoltatori, voilà! Sono qui che sto preparando il mio nuovo programma televisivo che farò a breve con il mio grande amico, nonché Correga. Comunque sarà davvero splendente e non finisce qui. Chissà. L'impresa Emilia Pulizie opera in Emilia Romagna e specializzate in pulizie di aziende e condomini, avvalendosi di personale specializzato che utilizza macchinari all'avanguardia e prodotti ecologici garantisce ai clienti un'alta qualità di servizi. Effettuiamo sopralluoghi e preventivi gratuiti. Emilia Pulizie, l'impresa di fiducia. Amici ascoltatori, allegria! Oh, va bene, ma soprattutto pulizia! E... oh! Oh, oh!